L'agricoltura è un'opportunità di sviluppo, lo dicono tutti in questa campagna elettorale, è questa la bandiera che unisce al di là degli steccati destra e sinistra partiti e movimenti civici, lo dicono a Gubbio i candidati sindaco, lo rilanciano a Gualdo Tadino i loro colleghi di campagna elettorale. L'obiettivo è chiaro, in una crisi che morde i settori tradizionali dell'industria e dell'artigianato, l'ancora di salvataggio sono loro, gli agricoltori, che oggi si sono ritrovati al Beniamino Ubaldi di Gubbio per un evento firmato CIE Conf Commercio sotto legida del GAL, il gruppo di azione locale Alta Umbria e Mediavalle del Tevere. L'occasione era la fase 3 del progetto Le Osterie del Gusto, ovvero ristoranti che riscoprono la vocazione dell'osteria comprando direttamente dai produttori locali ciò che cucinano, seguendo antiche ricette chiuse in soffitta. Nella fase 1 la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha cercato le aziende agricole di Alto Chiascio, Alto Tevere e Mediavalle del Tevere interessate al progetto. Nella fase 2 la Conf Commercio regionale ha trovato i ristoratori che volevano far parte della partita, nella fase 3 quella odierna li hanno fatti incontrare grazie al finanziamento del GAL che ha supportato il tutto. Sicuramente per cercare di mettere insieme chi produce con chi consuma la fase finale delle cose, in modo, penso, da riuscire a dare a chi produce le cose una possibilità in più di conoscere e soprattutto anche di guadagnare forse. È una giornata importantissima secondo me, proprio perché per noi ristoratori è qualche volta anche difficoltoso reperire materie prime del nostro territorio, è difficoltoso anche avere dei contatti con le varie aziende agricole, per cui questo è un incontro secondo me fondamentale perché intanto può essere un buono spunto per nuove idee anche da mettere nel nostro menu e poi è un buon punto di riferimento per la ricerca delle materie prime.